Le terapie digitali fanno parte del gruppo dei dispositivi medici, software tipicamente stand alone. Per questo motivo sono sottoposte a una legislazione molto chiara che è il regolamento dei dispositivi medici, il regolamento dei dispositivi medici copre svariate tecnologie tra cui anche i software per uso clinico. Questi software devono essere quindi sottoposti a una serie di test che ne garantiscono fondamentalmente tre grandi caratteristiche, la sicurezza, l'efficacia clinica e la possibilità di distribuire ai pazienti dei software con un livello di qualità costante. Questa legislazione definisce dunque i requisiti tecnici fondamentali per i dispositivi medici e ci aiuta anche a identificare quali sono le metriche che servono per valutare il beneficio che questi dispositivi medici portano al nostro paziente. La regolamentazione tecnica che è inserita all'interno del regolamento dei dispositivi medici si basa su una serie di norme tecniche specifiche per il mondo del software medicale. Cito in particolare la norma IEC 62304 che è la norma specifica che insegna alle aziende, agli sviluppatori come si descrivono i requisiti tecnici dei prodotti. Questi requisiti tecnici possono comprendere e ne parleremo probabilmente più avanti anche i requisiti di tutela del dato e quindi possiamo utilizzare questa norma tecnica non solo per la conformità al regolamento dei dispositivi medici ma anche per la conformità al regolamento della privacy. Un'altra norma tecnica che ci tengo moltissimo a citare quando si parla di requisiti tecnici per le terapie digitali è la norma sulla usabilità, sulla semplicità di utilizzo dei dispositivi medici. Questa norma incarica i progettisti di valutare anche la semplicità di utilizzo e di valutare a chi è rivolta la nostra tecnologia. Di conseguenza noi come gruppo di lavoro e il legislatore stesso indicano l'importanza di coinvolgere fin dall'inizio della progettazione non solo degli esperti tecnici ma anche dei rappresentanti dei pazienti e degli utilizzatori. Io personalmente ritengo che questa norma tecnica vada interpretata nell'ottica della progettazione partecipata in cui sviluppatori tecnici, esperti clinici e rappresentanti dei pazienti lavorano come una squadra per scrivere la lista dei requisiti tecnici dei dispositivi medici. Ecco che poi questa lista di requisiti, questa lista di desideri si trasformerà in un documento tecnico a scopo di pianificazione di tutte le attività di validazione tecnica del dispositivo. Come dicevo prima noi abbiamo tre parole chiave sicurezza, efficacia, qualità costante. Quindi la nostra validazione tecnica dovrà dimostrare la sicurezza del nostro prodotto comprensiva della sicurezza del dato e queste attività sono attività che si fanno tipicamente svolgendo delle attività di simulazione sul software. Dopodiché ci saranno delle attività di valutazione della facilità di utilizzo dove avremo dei partecipanti che simulano l'utilizzo clinico per poter andare a validare gli aspetti di usabilità del prodotto. Noi tipicamente facciamo questo come gruppo di lavoro con rappresentanti anche degli utilizzatori finali e successivamente ci sono delle attività di validazione clinica che quindi portano all'utilizzo sui pazienti. Tutte queste valutazioni sulla sicurezza e sull'efficacia vengono poi inserite in una strategia di aggiornamento del dispositivo medico software perché come sappiamo il software per sua natura evolve molto velocemente. Quindi la strategia per poter gestire queste evoluzioni in termini di garanzia di sicurezza per il paziente è sempre migliore di beneficio fa parte delle attività di validazione. Tutte questi risultati e queste strategie vengono poi creati dall'azienda ma nella stragrande maggioranza dei casi non sono sufficienti ma devono essere valutati anche da un ente terzo. Quindi dispositivi medici che ricadono nelle classi 2A o superiori nel nostro regolamento vengono valutati da un ente notificato. Gli enti notificati sono degli enti tecnici che vanno a valutare appunto gli aspetti di sicurezza e performance dei nostri dispositivi prima di poterli ammettere sul mercato attraverso questa certificazione che si chiama marcatura CE secondo il regolamento dei dispositivi medici. Chiaramente gli indicatori per gli enti notificati sono indicatori come dicevamo di sicurezza, efficacia clinica e mantenimento della qualità nel tempo. L'ente notificato non si occupa direttamente di rimborsabilità. La rimborsabilità è a carico dei diversi sistemi sanitari nazionali. In questo caso oltre alle normali attività di convalida della sicurezza dell'efficacia è anche necessario integrare la documentazione relativa alla nostra tecnologia sanitaria con informazioni di health technology assessment, quindi di valutazione costo-beneficio o gestione-beneficio rispettivamente a questa tecnologia. È un'attività sfidante tanto quanto quelle precedenti soprattutto perché spesso queste tecnologie sanitarie si inseriscono in dei percorsi in cui è difficile trovare un comparatore. Sono talmente innovative che è difficile andare a capire quale potrebbe essere l'alternativa contro cui fare dei confronti. Quindi è una grande sfida per gli sviluppatori e anche per chi si occupa appunto di metriche di health technology assessment per queste tecnologie così innovative. Sicuramente la normativa medicale, in particolare la normativa sull'analisi del rischio medicale, considera il dato del paziente una proprietà del paziente da tutelare tanto quanto io tutelerai la vita stessa del paziente o un organo del paziente. Infatti abbiamo delle parole chiave importantissime sulla confidenzialità del dato, sulla protezione del dato e sulla accessibilità del dato. Sono parole chiave che si integrano con quelle richieste dal regolamento privacy e con le necessarie attività di cyber security, sempre molto importanti quando si parla di dati così preziosi. Quindi quello che viene proposto è quello di integrare i requisiti tecnici relativi alla sicurezza clinica della persona con i requisiti tecnici relativi alla sicurezza del dato. Questo consente di avere un software che viene sviluppato in maniera armonica ed armoniosa per rispondere contemporaneamente ai requisiti medicali e ai requisiti di privacy e quindi rispondere a quel concetto di privacy by design o safe by design che è molto caro al regolamento GDPR. Ci tengo ad aggiungere che una costruzione così robusta delle funzionalità del software che consente fin dall'inizio di trattare il dato in maniera sicura dal punto di vista privacy, consente anche di raccogliere in maniera legale, ben organizzata e ben disponibile una serie di dati che sono poi veramente preziosi per fare ricerca nel futuro. Per quanto riguarda il regolamento dispositivi medici è previsto che le aziende fabbricanti delle digital therapeutics mantengano in forma anonima i dati di utilizzo del proprio prodotto perché servono per fare dispositivo medico vigilanza. Però è possibile se è ben gestita questa attività e se i pazienti vengono correttamente messi al corrente e danno correttamente il loro permesso al trattamento dei dati, utilizzare i dati in forma anonima anche per fare ricerca, anche per migliorare il prodotto e dove è possibile anche per fare pubblicazioni scientifiche in maniera che questa conoscenza non rimanga solo e unicamente all'interno dell'azienda ma possa essere condivisa con tutta la comunità accademica e di ricerca.